salve amici e allora ci sono alcune novità che voglio condividere con voi quindi siamo in arrivo sulle 300.000 visualizzazioni quindi per me è un traguardo storico tempo fa non immaginavo di arrivare fino a qui con questa costanza anche in tanti che mi seguite quindi colgo l'occasione proprio per ringraziare tanti di voi che mi avete sostenuto e mi dimostrate più che altro fiducia che vi piace proprio il mio modo di essere a portata di mano con chiunque quindi essere più che altro sincero su quello che ogni volta vado a parlare e quindi in questa occasione voglio ringraziare alcuni componenti che sono stati inglobati a fare parte del mio sostegno e più che altro anche tecnico perché ci tengo a precisare che tanti di voi si sono dimostrati proprio di mettersi a disposizione come anche questa attrezzatura che ho a disposizione come anche l'attrezzatura a livello di software che andiamo a trovare qui vedete sui monitor che sono accesi e questo lo devo più che altro anche alla disposizione dell'ingegnere Serpil che c'è stata una collaborazione quindi ho chiesto dei favori così per chiarire alcuni concetti dei componenti proprio dell'importanza dei software di acquisizione come la lettura degli alberi a camme e la lettura dei componenti a livello di comportamenti reali proprio del banco di flussaggio come letture per essere inglobati in un programma che si chiama 4T base poi ci sono diverse versioni come la 4.0 questa è la 5.0 quindi mi voglio dedicare poi più in là a farvi conoscere bene il programma e che cosa è importante avere il rilevamento di questi componenti che vanno a simulare proprio il programma quindi voglio ringraziare l'ingegnere Serpil che si è messo a disposizione di fatti aspetto con ansia che mi venga concesso anche la possibilità di avere il programma quello delle letture camme sbloccate così almeno anche a tempo voglio dire perché mi interessa soltanto avere la possibilità di farvi capire e comprendere l'utilità della lettura molto dettagliata dell'albera a camme comunque sul programma ne voglio parlare con una più ampia veduta in altri video che andiamo a fare per adesso come ho detto sulle video è un video verità del banco di flussaggio perché voglio parlare di questa verità del banco di flussaggio quindi per arrivare a questo concetto voglio prima ringraziare alcuni collaboratori che mi hanno dato fiducia io non conosco personalmente nessuno siamo in questo periodo proprio che non ci conosciamo soltanto almeno da parte mia vi conosco tanti come voce perché vi sento al telefono quindi comunichiamo tanto per telefono voglio ringraziare intanto l'amico che si è messo a disposizione che è l'amico Bruno Morra non mi ricordo ora per essere sulla provincia di Napoli non mi ricordo di dove e poi altri collaboratori che si sono aggiunti come quelli che mi hanno dato fiducia mi hanno dato a disposizione questo materiale per poter divulgare con voi i miei viti e ci tengo a ringraziare anche l'amico l'amico Baldini qui che non mi sono dimenticato di lui perché mi ha dato diverso materiale da poter provare quindi manca soltanto per me fare questa dimostrazione quindi mi ha dato un ampio materiale da poter divulgare e farvi conoscere sulle tante possibilità che possiamo avere con le termocoppie quindi questo è un discorso che andiamo poi più avanti e poi volevo dire grazie a una persona che mi ha dimostrato fiducia proprio come dire una fiducia non fraterna ma più perché con i tempi che siamo in questo periodo dare fiducia a una persona non è tanto facile scusate sono un po' commosso sono una persona sensibile quindi non immaginiamo di avere tutta questa fiducia da tante persone scusate per il momento che ho avuto comunque ci tengo a ringraziare una persona molto stimata quindi nell'ambiente delle corse come Mimì Pezzolla quindi è una persona che mi ha dimostrato tanta fiducia e ci tiene a collaborare con me quindi è una persona che stimo molto come tutti voi quindi estimo pure anche l'ingegnere Serpile che mi ha dato questa possibilità quindi al di là che non ci conosciamo mi ha dato in concessione questo programma che è un programma molto complesso quindi ne andiamo a parlare più avanti e proprio ci tengo a dimostrare questa fiducia anche di Mimì Pezzolla proprio perché mi sta dando anche la possibilità in qualche altro video di andare a parlare proprio di determinati lavori che vengono fatti attualmente come metodi di lavoro sui condotti che vi ho parlato in qualche video precedente come la lavorazione dei condotti quello con le sferette fatte nei condotti quindi questo tipo di lavoro mi è stato concesso la possibilità di poter fare una prova di flussaggio quindi andiamo a conoscere che differenza possiamo avere anche a livello di di guadagno in una testata quindi ne andiamo a parlare più avanti quindi è una collaborazione che personalmente non mi aspettavo e di fatti si è confidato di tante conoscenze quindi di tanti anni di lavoro che lui ha portato avanti come come lavorazione quindi conoscenza dei motori quindi una persona che già lavora con un banco di banco prova di motori quindi sa quello che dice e allora voglio chiedere il concetto dei banchi di flussaggio quindi la soft engine mi sta dando come ditta è una ditta che intanto voglio far conoscere proprio perché non sono io a far conoscere questa ditta perché è una ditta italiana a livello mondiale quindi è una ditta proprio che stiamo parlando di praticamente tutte le nostre letture che andiamo a fare noi a livello di testate di componenti del motore resistenze delle molle come va a lavorare la testata quindi andare a rilevare queste letture vengono immagazzinate in questo software non è altro che un simulatore tutti sappiamo ormai che a giorno d'oggi si lavora con i simulatori perché i simulatori accorciano di tanto i tempi proprio di di evoluzione del motore quindi sappiamo tutta questa importanza ora io voglio voglio dire a tutti voi sì mi avete puntualizzato a volte le formule quello per trovare il dimensionamento dei condotti le formule per avere maggiore guadagno a livello motoristici ebbene voglio dire un concetto dovete fare una svolta alla propria vita quindi almeno io l'ho fatto per avere queste conoscenze quindi arrisco il pericolo mio quindi quello che vado a dire di quello che io ho valutato sono la mia verità poi ripeto questo simulatore che cosa fa vi va ad accorciare le vite ormai siamo nei tempi che non c'è più quel tempo di andare a fare delle prove con un tipo per vedere quel guadagno che abbiamo oppure un altro tipo di testate o un altro tipo di lavorazione ora si lavora molto più velocemente quindi questo è un consiglio per chi vuole lavorare più professionalmente rispetto alla clientela pure che ha al giro perché purtroppo siamo siamo chi ha la possibilità di poter fare dei lavori e chi no e allora avere a disposizione un simulatore è proprio per avere la matematica del riscontro attraverso tutta un'immissione di dati che vengono messi nel programma quindi come ad esagio corsa dell'abromotore quindi lunghezza della biella sono tutte queste che non dobbiamo andare noi a cercare delle formule dobbiamo soltanto immettere dei dati quindi come mi diceva l'ingegnere Serpilli quindi della soft engine è un programma che a primo impatto bisogna avere delle conoscenze a livello motoristico e pure di funzionamento però ripeto se vogliamo arrivare ad avere delle conoscenze proprio motoristiche dobbiamo fare quindi dobbiamo prendere una decisione dobbiamo avere un punto di partenza partire con qualche cosa quindi avere qualcosa sulle mani dove poter andare a sviluppare il nostro motore quindi questo programma ha lo scopo proprio di simulare attraverso tutti i dati che noi andiamo ad immettere pagina per pagina in base alle esigenze che dobbiamo noi andare a valutare avere proprio un riscontro del programma che alla fine ci dirà quello che noi andiamo a trovare sul banco su banco prova motore quindi è molto realistico avere dei dati molto reali per questo io dico io sto lavorando con un banco di flussaggio che ho autocostruito però non posso dire per chi lavora professionalmente di avventurarsi in qualcosa del genere e ne voglio fare comprendere l'importanza perché attraverso i dati di flussaggio che andiamo noi a stabilire in un banco professionale quindi al di là della spesa questo è un discorso che poi dovete valutare però se non partite da qualche cosa non potete mai arrivare a qualcosa quindi avere un banco di flussaggio che sia professionale che vi dia dei coefficienti di efflusso proprio del funzionamento della testata che cosa sono dei coefficienti di efflusso proprio andare a valutare gli attriti che noi andiamo a vedere nei condotti della testata anche all'uscita della camera di scoppio proprio per avere il comportamento reale del motore quindi andate poi attraverso quelle letture del banco di flussaggio che sono proprio dei coefficienti reali immessi in questo programma avete poi alla fine proprio il comportamento reale del motore messo a banco a banco prova quindi andate a lavorare con un simulatore quindi di volte in volte potete cambiare che ne so avete una lettura di un altro abberacame memorizzato lo andate a provare mettete i parametri degli abberacame che noi si vanno a rilevare attraverso delle attrezzature oppure semplicemente come ho fatto io l'altra volta comunque questo è un attrezzo molto particolare perché molto più preciso quindi abbiamo una precisione ben più evoluta e poi ripeto attraverso il simulatore abbiamo la possibilità di andare a cambiare anche le lunghezze della biella strutturalmente e altri parametri che andiamo a riscontrare proprio alla fine il rapporto proprio in cavalli all'uscita del nostro motore che andiamo a progettare quindi ci dà la possibilità di arrivare ad avere le giuste letture quindi è importante questo lavorare con dei programmi professionali quindi io ci tengo a dirlo non perché devo pubblicizzare poi un qualcosa perché alla fine io voglio dire la verità quindi non avete mai un riscontro attraverso quelle letture di qualcosa di reale che è andata da fare quindi se dovete lavorare professionalmente come ci vogliono i banchi prova dei motori ci vogliono pure i banchi proprio per terrare gli ammortizzatori chi ci lavora quindi ripeto qui è un'equipe di ingegneri che lavora su questo settore proprio per andare a fare sempre delle nuove evoluzioni su questi proprio software che sono proprio dei simulatori veri e propri quindi avere quella lettura proprio finale che sia quasi al cento per cento quindi più sa noi più mettiamo dei dati molto simili alla realtà più abbiamo il comportamento finale molto reale quindi per questo ci dico ci tengo proprio a precisare l'importanza dei materiali per questo dico io di prendere in considerazione proprio di fare per chi vuole andare avanti in questo settore proprio di fare una scelta quindi dedicarsi con proprio come faccio io proprio con passione attraverso tutti questi lavori che si vanno a fare sui motori capisco che non tutto è alla portata di tutti perché c'è chi è più più portato ad avere queste conoscenze però ripeto per chi vuole fare un lavoro proprio professionale avere dei parametri di riscontro molto reale alla realtà si deve lavorare in questo modo quindi se ho la possibilità lo faccio al limite ne andiamo a fare qualche prova al limite poi più avanti non dico come i parametri di di banco di flussaggio perché ripeto dovrei andare a a ricalcolare un po' le letture che vado ad avere io perché e allora quello che voglio poi puntualizzare è una cosa che molti mi hanno chiesto quindi non è un discorso che possa andare a fare ora quindi ci sono molti chiarimenti che andiamo a fare più avanti nei vidi però un altro chiarimento che voglio dare sul banco di flussaggio qual è? Se noi andiamo a lavorare a parità di sede valvola quindi per un motore che andiamo a fare delle lavorazioni quindi andiamo a lavorare sui condotti o sui componenti che fanno parte del condotto attraverso valvola quindi sede valvola andare a valutare il guadagno che andiamo a fare come faccio io per adesso attraverso il mio banco di flussaggio però come tanti voi mi fanno delle domande è consigliabile aumentare il passaggio delle sede aumentare le valvole allora io vi dico che aumentare il passaggio delle sede aumentare delle valvole come prestazione in termini di coefficienti di guadagno sicuramente andiamo ad avere dei coefficienti di guadagno perché a parità di pompaggio del nostro motore abbiamo delle sezioni di passaggio come passaggio d'aria questo però non significa che abbiamo poi alla fine un guadagno perché questo viene stabilito dalla velocità del pistone e delle colonne di flusso che si vengono a creare attraverso i condotti e dentro la camera di scoppio e del cilindro che se non vengono sostenute dalla velocità del pistone quindi anche con lo scambio di pressione dall'ambiente atmosferico e la camera del cilindro non si va ad avere un miglioramento finale perché dobbiamo andare a valutare pure dei coefficienti proprio di vortici attraverso dei condotti che si vengono a creare dentro la camera di scoppio per questo voglio dire di fatti ho fatto un lavoro proprio su quella testata del turbo diesel che stavano facendo e ho riscontrato un problema quindi che lo voglio proprio far vedere nel prossimo video proprio per parlare di questo discorso dei lavori che vengono fatti sulla testata quindi non è sempre che andando ad avere delle sezioni più ampie di passaggio abbiamo un riscontro come guadagno del cilindro perché poi ripeto più aumentiamo l'aria di passaggio più andiamo a sfruttare la potenza in su del motore quindi andiamo a perdere le corposità proprio del motore in basso e dobbiamo sempre adeguare le caratteristiche rilevate con la gamma con tutto il sistema della componentistica del motore quindi avere un simulatore che va a fare questa accoppiata abbiamo dei risultati quindi se no possibilmente andiamo a fare dei lavori con degli abberacami che poi alla fine andiamo a fare un passo indietro invece di fare un passo in avanti questo questo è il concetto che voglio fare capire ripeto se non si hanno dei dei simulatori che ci portano ad avere queste conoscenze dobbiamo fare dei passi avanti per esperienze quindi dobbiamo andare di volta in volta a fare delle esperienze nuove ad avere proprio del del rilevamento proprio con perdita di tempo e attualmente con i tempi che ci sono ora chi perde troppo tempo a stare dietro a certa evoluzione dei lavori quindi non ne trae vantaggio almeno questo è il mio punto di vista quindi con l'occasione ripeto questo è soltanto un video a livello dimostrativo del software e poi ci tengo anche perché ripeto sono arrivato alla soglia delle 300.000 visualizzazioni quindi mi è sembrato giusto condividere con voi questo traguardo quindi ci tengo pure a dirvi grazie per la per la stima che mi state dando quindi ci andiamo a risentire poi più avanti in altri video quindi con nuove possibilità di lavoro e nuove e nuovi concetti sull'equilibratura e su su tutti i lavori che dobbiamo portare avanti anche specialmente con il motore bicilindrico quindi intanto mi avete chiesto proprio di portare avanti qualche lavoro sul bicilindrico della 500 e ci tengo anche io ho diverso materiale a disposizione però per mancanza di tempo per adesso non l'ho potuto portare avanti quindi ci andiamo a risentire più avanti e grazie a tutti per la stima per la stima per la stima